Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci dichiara che sta seminando la rinascita e insieme a lui Mattia Giorno che si compiace. Guardate lo scempio, siamo nel pieno centro Umbertino, siamo in via Nitti quasi ad angolo con via Pitagora, il marciapiede circa quattro mesi fa è sprofondato, è collassato letteralmente, vedete i mattoni completamente rotti, messa la transenna, da quel dì nessun intervento, nonostante le mie sollecitazioni e a livello mediatico e a livello istituzionale come consigliere comunale. Il centro Umbertino, non l'estrema periferia, non la periferia delle periferie, non sono in grado di aggiustare un marciapiede, di riparare un marciapiede. Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, tu che tanto te la profumi in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, in Africa, in Europa, in varie città italiane e parli di mobilità sostenibile, parli di lavori pubblici, parli di Taranto, città smart, ma guarda che scempio, guarda, non siete in grado di riparare un marciapiede, un marciapiede in pieno centro, è una vergogna, che schiaffo dati ai turisti, assessore Manzulli, vice sindaco, assessore allo sviluppo economico, al turismo, questa è l'immagine, in quattro mesi, neanche nelle città del terzo mondo si verificano questi scempi. E ora sapete qual è il modus operandi? Sprofonda una strada, sprofonda un marciapiede, transenna, polizia locale. E come si suol dire? Chi si è visto, si è visto. Un'amministrazione fallimentare. Alla fine però devo dire, cari cittadini, io faccio il consigliere comunale di opposizione e mi batto e faccio il possibile e l'impossibile, ma cosa vi dovrei dire? Avete voluto Melucci e ora tenetevelo? Questo è il livello di Melucci. Poi si sciacqua tanto la bocca, ripeto, con gli show mediatici ad effetto, con gli effetti speciali per la presentazione dei progetti. Questo tanto vale nell'amministrazione Melucci. Mi dimostrate che non è vero? Quattro mesi, quattro mesi, vergognatevi, state distruggendo Taranto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS